Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruni, in questo momento mi trovo a Singapore, sono sgattaiolato sopra i tetti degli edifici principali, gli edifici clou di questa bellissima città, vi faccio un po' vedere una panoramica, sono sgattaiolato da questo ingresso, sono uscito fuori da questo ingresso di sicurezza e da qui dall'alto abbiamo questa bellissima panoramica e abbiamo anche una visuale, come vedete sono davvero sopra i tetti, abbiamo anche una visuale dell'area shopping, attraverso la vetrata. Ok ragazzi vi saluto prima che mi becchino, ciao!